ciao ragazzi vi faccio vedere il valore di natale e il presepe colorizzato ecco qui faccio l'effetto buio per farvi vedere come con le luci mi piace poi ci sono anche altre luci che poi accenderò vedete ed ecco il presepe ora lo faccio vedere un po' così il presepe è la casa della relatività di Maria la casa di Elisabetta metto ecco l'albero qui ci sono tutti gli addobbi eccoli qua posso pure le befane eccole qua le due befane poi ci sono altri che ho messo che metterò dopo ok vi saluto ora preparo una scena buon appetito a tutti ciao 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 ciao